Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte le altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perché io non labbo, non senza tema, a dicermi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo da scrivere a fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo. Comincia così il canto 33, 32 scusate, dell'Inferno. Ho deciso di partire dalla lettura dei primi versi perché questa protasi iniziale, di grande forza, caratterizza fortemente il canto e in una misura che ritroviamo soltanto abbastanza di rado nella commedia, in canti celebri, come ad esempio il primo del Paradiso, dà la misura di tutto il canto. E da subito, sono versi memorabili che molti conoscono a memoria, si nota un altro aspetto, cioè quello di una riflessione molto profonda e strategica in questo punto dell'Inferno sul rapporto tra la materia e lo stile. Dante dichiara quale dovrebbe essere lo stile adatto, conveniente, alla materia che sta trattando. E dichiara anche, fin da subito, l'inadeguatezza, questa della sua parola poetica, questa è una declinazione, l'estrema declinazione infernale del topos dell'ineffabilità. Dante, appunto, ci dice che non è impresa da pigliare a gabbo di scrivere fondo a tutto l'universo, perché è questo, appunto, lo sapete, l'argomento di questo canto e dei canti che seguono, cioè descrivere il fondo dell'Inferno, la parte più bassa. Proverò quindi, trattandosi di un canto scomplesso, stratificato e pieno di personaggi, di delineare alcune caratteristiche fondamentali, per poi, ovviamente, passare alla lettura finale. Molto importante, molto importante, la struttura, la struttura del canto, che vale la pena chiarire immediatamente. Il canto è facilmente divisibile in quattro parti, perfettamente simmetriche tra loro. C'è questa protasi, che contiene un'invocazione alle muse, come vedremo tra pochissimo, di 15 versi, d'accordo? Alla fine di questa protasi si entra nella prima parte del canto, quella dedicata a una prima categoria di peccatori, e questa parte conta esattamente 54 versi. Altri 54 versi sono dedicati alla seconda categoria di peccatori, che vedremo tra poco, e poi c'è una conclusione. Altri 15 versi, esattamente come i 15 versi della parte iniziale, che concludono il canto annunciando il canto successivo. Il canto successivo, lo sapete, è il canto di Ugolino. Gli ultimi 15 versi annunciano già il canto successivo, ma riproponendo esattamente alcuni dei temi dei 15 versi iniziali. Lo vedremo nel dettaglio, ma i temi sono una riflessione sulla capacità del dire, sulle potenzialità della parola poetica, e poi la presenza costante del riferimento al mito di Tebe. Lo vedremo subito, questo mito apre il canto e poi lo chiude. Quattro parti perfettamente simmetriche tra di loro. Dunque, siamo nel nono cerchio, a Cocito, l'ultimo, quello dove si ponisce la frode contro chi si fida. E' quel canto nel quale, come dicono alcune delle rubriche antiche, si tratta dei traditori di loro schiatta e dei traditori della loro patria, che sono nel pozzo dell'inferno. Sono queste, ricordate la struttura che abbiamo appena descritto, le due categorie. Nella seconda parte del canto si parla dei traditori della schiatta, nella terza parte dei traditori della loro patria. Sappiamo, sappiamo da quella sezione dell'inferno nel quale si spiega la struttura dell'opera, la struttura dell'inferno, che queste prime, queste due prime zone della parte più bassa dell'inferno sono la caina, quella caina che, tra l'altro, come ricorderete tutti, già stata annunciata nel canto di Paolo e Francesca, perché è la caina che attende l'assassino di Paolo e Francesca, dove, appunto, la caina dove si puniscono i traditori della loro schiatta, i traditori dei pareniti. E poi l'antenora, dal nome di antenore, evidentemente, dove invece si puniscono i traditori della loro patria. Nei canti successivi vi saranno la tolomea e la giudecca, che è il punto più basso, quello dove si punisce, si sa, giuta. Bene, il tradimento e questo il peccato che si sconta nel fondo dell'infermo. Il delitto più grave che è sia un crimine privato, i traditori della schiatta, sia il crimine pubblico per eccellenza. Questo è un aspetto estremamente rilevante. Molta parte della critica, soprattutto contemporanea, ha messo l'accento su questo peccato, inteso non semplicemente come delitto contro la patria, ma come un peccato politico, eminentemente politico. Si va, evidentemente, verso Giuda, che è il traditore per eccellenza. Dante e Virgilio sono stati depositati da un gigante antero nel fondo che divora Lucifero con Giuda in questo lago ghiacciato che è formato dal deposito delle acque infernali. Qui ci sono coloro che non solo spezzano quel vincolo d'amore che fa la natura tra uomo e uomo, ma anche quello, si è detto, dei rapporti sociali più stretti, la fede speziale, come viene definita appunto da Dante. E ci sono, c'è una grande folla di personaggi, questo l'ho già detto prima, è un canto eccezionale da questo punto di vista per la quantità e anche la qualità, lo vedremo tra un attimo, dei peccatori. È interessante, ovviamente, che Dante consideri più gravi i tradimenti di natura politica rispetto a quelli familiari. Questo dipende probabilmente dal rapporto, dalla gradazione tra i diversi fini cui tende l'uomo che vengono descritti da Dante, tra l'altro, nella monarchia. I traditori, peraltro, in questo canto, è qualcosa che, sapete, accade spesso nell'inferno, ma qui con più forza, sono dei traditori che continuano ad essere tali, perché in questo gioco di simmetrie molto fitte, riscontrabili all'interno del canto, c'è ad esempio una doppia delazione, perché questi peccatori non vogliono che si conoscano i loro nomi e per due volte nelle due diverse zone, appunto, nelle due diverse zone presenti in questo canto, zone, insomma, due diverse schiere, in qualche modo, di peccatori, vi sono due delatori, due personaggi che rivelano contro la volontà degli interessati i nomi di alcuni dannati. Ce ne sono due e sono appunto dei traditori che tradiscono i loro fratei, i loro fratelli. È un termine che è presente all'interno del canto riferito ai dannati con un uso decisamente problematico sul quale gli studiosi si sono interrogati perché non è sembrato anomalo che Dante usasse questo termine così profondo riferito ai dannati, ma vedremo poi che all'interno di questo canto c'è anche tutto un sistema di rovesciamenti di significato, lo vedremo ragionando soprattutto della natura delle similitudini. Ho già detto, ma questo per chi avrà ascoltato queste letture e in generale per gli appassionati lettori di Dante è cosa nota che questi canti come tanti altri nella commedia sono strettamente legati ad altri l'esercizio retorico della lettura d'Antis non può che si concentra necessariamente su un canto non può non tenere conto del fatto che i canti della commedia sono strettamente interconnessi ebbene questo canto è legato al 33 al 34 che descrivono il fondo dell'inferno e soprattutto al 33 ma è anche importante molto importante notare che tutta questa zona tutta questa zona il fondo dell'universo come è stato rilevato ad esempio nell'ultimo commento a cura di Giorgio Inglese si distacca al modo in cui non allo stesso modo ma in maniera analoga in cui l'Eden e l'Empireo poi si distaccano dal resto della struttura di questi luoghi fisici e metafisici rispetto al resto altro altro elemento di cui tenere conto nella lettura di questo canto accanto ripeto alla folla di personaggi è la centralità sottolineata dalla marcata ripetizione del pronome io del personaggio poeta qui Dante prende la parola in modo molto deciso e agisce agisce rispetto a Virgilio in maniera molto più netta molto più decisa di quanto il personaggio di Dante non faccia negli altri negli altri canti abbiamo quindi due gruppi di personaggi quelli della Caina e quelli dell'Antenora al verso 70 c'è un passaggio marcato da un poscia Dante dice appunto poscia vidio mille visi cagnazzi è lì che comincia la terza parte del canto ma il confine non è in realtà netto per cui diciamo si deve non è chiarissimo tra l'altro quali siano le differenze nella pena combinata alle due specie di peccatori bene altro aspetto importantissimo è che questa folla di personaggi accoglie quasi esclusivamente con due eccezioni personaggi contemporanei personaggi che Dante conosce di cui ha sentito parlare oppure personaggi di cui si sa poco e forse l'intenzione di Dante è proprio quella di rivelare al mondo è il caso di uno dei protagonisti di questo canto il loro destino ultraterreno e ovviamente le eccezioni sono Mordret che è il nipote o il figlio di Artù e Gano di Maganza il traditore per eccellenza dell'epica antico francese sempre a proposito di simmetrie riscontrabili all'interno del canto è stato notato come sommando i protagonisti di questa zona dell'inferno questa zona terminale del fondo dell'inferno si possono contare sedici personaggi comprendendo in realtà quel gianciotto malatesta l'uccisore di Paolo e Francesca divisibili in due schiere otto guelfi e otto ghibellini questo è un aspetto estremamente rilevante perché sembra abbastanza evidente che Dante rispettando questa ripartizione che difficilmente sarà casuale volesse mettere l'accento sulla natura sovramunicipale della commedia Dante che scrive il trentaduesimo canto dell'inferno è un poeta che ha superato che dichiara di aver superato esplicitamente le divisioni tra le parti in nome di prospettive politiche molto più ampie e questo è un aspetto sul quale tornerò poi a dire a dire qualcosa altro elemento di simmetria tra l'inizio e la fine ripeto è il riferimento a Tebe il primo riferimento è all'interno della parte introduttiva i versi che leggevo all'inizio continuano così ma quelle donne aiutino il mio verso che aiutavo Anfione a chiuder Tebe sì che dal fatto il dir non sia diverso qui Dante si riferisce a uno dei più celebri miti relativi all'origine della poesia e in particolare ad Anfione che al quale fu concesso il privilegio di poter edificare con la sua cedra le mura di Tebe il mito veniva interpretato nel Medioevo come in chiave politico sociale in riferimento alla funzione politica e sociale della poesia ma qui vedete già questo già qui in realtà con questo riferimento a Tebe entriamo profondamente nella materia nella materia del canto perché Dante chiede aiuto alle muse che hanno consentito ad Anfione di edificare di chiudere Tebe nel momento in cui sta edificando sta descrivendo sta costruendo con la sua poesia la zona più bassa la zona più bassa dell'inferno questo pozzo scuro circondato da una sorta di mura da un muro in effetti esattamente in maniera esattamente speculare rispetto alla costruzione di Tebe quindi Dante recupera il mito e lo rovescia perché lui sta chiedendo le più alte e impegnative capacità politiche per edificare in qualche modo l'esatto contrario della città l'esatto contrario della polis perché qui ci sono coloro che hanno tradito sia i parenti sia la patria e questo questo riferimento questo riferimento al mito Tebano ritorna alla fine alla fine del canto perché nel momento in cui Dante deve vuole introdurre i personaggi di Ugolino e dell'arcivesco Ruggeri che non vengono qui ancora nominati vengono solo visti da Dante nell'atto terribile feroce che poi aprirà il canto il celeberrimo canto trentatresimo ebbene Dante usa per descrivere il gesto feroce di Ugolino proprio un'immagine tratta dalla materia tebana ancora ovviamente da Stazio che sapete è una fonte privilegiata di Dante quando dice non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno riferimento appunto a due avversari del mito del mito Tebano vedete questo riferimento apre e chiude il canto in maniera molto precisa l'altro grande tema ovviamente sul quale non si può non ci si può non soffermare è quello del gelo il gelo è la dimensione di questi di questi canti il gelo è una alternativa infernale al fuoco ben attestata nella Bibbia nella letteratura apocrifa vetero testamentaria garantita peraltro dai Vangeli e il gelo allude all'odio così come il calore allude all'amore questo è molto chiaro e Dante però giunge alla descrizione di questo gelo qui vorrei spendere qualche qualche parola attraverso un uso molto serrato di un materiale linguistico molto ben molto ben determinato questo incipit se avessi le rime aspre se avessi le rime aspre chiocce come si converrebbe al Cristo buco eccetera ha fatto pensare infatti a moltissimi interpreti alle rime cosiddette petrose in particolare la celeberrima canzone così nel mio parlar voglio essere aspro ma più in generale questo gruppo di componimenti che si possono collocare con buona approssimazione alla fine alla seconda metà degli anni novanta quindi al periodo della maturità prima maturità dantesca ma a un periodo ancora fiorentino che sono fortemente caratterizzate sul piano stilistico Dan c'è un le le analogie tra le rime petrose e la sostanza linguistica retorica di questo canto non si fermano qui perché sono non solo appunto stilistiche ma sono anche a livello dell'immagine della gestione delle immagini perché probabilmente ricorderete tutti che il nucleo fondamentale delle rime petrose è o meglio l'immagine fondamentale che domina le rime petrose è l'inverno il freddo il gelo quel gelo che è l'esatto quel gelo della natura descritta nelle canzoni petrose che è l'esatto corrispettivo della natura petrosa della donna ritrosa restia della donna che rifiuta l'amore di Dante non riesce a provare amore mi interessa molto questo riferimento perché da un lato perché mi sono occupato a lungo delle rime di Dante ma anche perché in effetti è possibile al di là della delle corrispondenze superficiali ritrovare e la letteratura critica lo ha ben messo in evidenza tutta una serie di corrispondenze tra le rime petrose e questo canto dell'inferno per esempio sarà più evidente quando leggeremo il canto il gesto del del pellegrino che tira per i capelli il personale bocca degli abati che è appunto uno dei traditori qui presente questa aggressione fisica nettissima descritta in maniera estremamente plastica è l'equivalente sul piano delle immagini ma anche sul piano verbale dell'aggressione fisica che Dante poeta immagina di rivolgere nei confronti della donna ritrosa che viene verrebbe presa dal poeta pevi capelli esattamente come il personaggio di Dante nella commedia farà con bocca degli abati ma ecco al di là di queste di queste corrispondenze ci sono forse delle corrispondenze più forti che ci raccontano della continuità concettuale che si può rintracciare tra le rime appunto petrose e questa zona dell'inferno per ragionare su questa su questo sistema di equivalenze devo fare una piccolissima divagazione e leggerò alcuni passi delle prediche di Giordano da Pisa che è un predicatore attivo a Firenze grosso modo subito dopo l'esilio di Dante quindi non c'è ragione di ritenere che Dante avesse effettivamente ascoltato queste queste prediche ma ecco queste prediche contengono tutta una serie di immagini di idee di concetti che evidentemente potevano essere affini al pensiero di Dante ma soprattutto a quello dei lettori di Dante sia delle canzoni petrose sia più tardi della commedia ebbene c'è ci sono due prediche in particolare di Giordano esposizione sui capitoli del del Genesi dove Giordano commenta la mededizione di Dio sulla terra sul lavoro di Adamo e cerca una corrispondenza tra le qualità della terra e la morale evidentemente e dice che la terra ombrosa è quella dove nascono delle erbe velenose e degli altri animali rei colpevoli spiega che quando la terra è molto ombrosa come nelle grotte questa non può ricevere buon seme né fare buon frutto è precisa che così è della terra dell'anima quando ella ha troppa ombra però che non può fruttificare e infine anche la terra petrosa non riceve semene fruttifica così è della terra dell'anima la quale è petrosa e quando è petrosa quando è piena di peccati mortali li quali sono duri come pietra e però non fruttificano l'opere dei peccatori e in Giordano il peccato mortale quindi è la tenebra la tenebra è anche ignoranza la terra è maledetta per la sua durezza una durezza provocata da tre elementi freddo aridità e petrosità dice Giordano il freddo rende la terra dura cosicché la terra non riceve il seme e lo stesso accade dell'anima il freddo la fa diventare dura e non riceve il seme da Dio il freddo deriva da un difetto di calore e di luce quando l'anima non riceve la luce divina non ha calore però che chi non conosce dice Giordano non ama quindi l'anima è fredda perché non conosce la luce divina non accoglie l'amore di Dio che è calore ora perché citare Giordano perché ci dà il il contesto all'interno del quale sia le petrose sia evidentemente i canti infernali del gelo potevano essere letti nelle rime petrose nelle canzoni di cui abbiamo parlato non è necessario individuare un senso allegorico in chiave religiosa ma è possibile è possibile che Dante abbia trasposto un analogo in pianto metaforico in un testo di argomento amoroso la donna pietra è priva di amore come lo è l'anima peccatrice d'altronde lo ricordate che Dante nella commedia attribuisce alla pargoletta quindi a una fase della propria biografia e della sua produzione letteraria una connotazione chiaramente peccaminosa la donna pietra delle petrose sembrerebbe quindi sovrapponibile alla pargoletta del purgatorio la figura che nel poema incarna quella temporanea deviazione dal percorso di Beatrice verso Beatrice e in più in vergatorio la resistenza del pellegrino agli insegnamenti di Beatrice è in effetti ottenuta ancora con la metafora della pietrificazione ma per chi oveggio te nello intelletto fatto di pietra e impetrato tinto sicché tabbaia il lume del mio detto insomma la donna pietra come la pargoletta come la donna gentile della vita nova come la donna filosofia del convivio rappresenta il polo negativo dell'amore l'amore che non conduce a Dio come fa appunto l'amore per Beatrice ora qui siamo in un altro mondo siamo in un altro contesto ma l'immaginazione complessiva è la stessa qui non c'è amore non c'è calore c'è il gelo c'è la pietra c'è il contrario dell'amore c'è il tradimento ora lo dicevo prima il canto è estremamente affollato di personaggi non si può ragionare su tutti quelli più importanti e cosa nota sono i primi due incontrati da Dante cioè Napoleone e Alessandro degli Alberti due fratricidi Guelfi Guelfo e Ghibellino che sono qui uniti nel ghiaccio e poi e che fanno parte appunto della prima parte dei traditori della loro schiatta e poi nella seconda parte invece Bocca degli Abbati che è il personaggio dal quale forse Dante si distacca emotivamente nella mania più netta e questo è stato sottolineato da poco in un bel saggio di Luca Seriani qui c'è l'esatto opposto di quelle tracce di ammirazione rispetto o di condivisione di un orizzonte esperienziale che comunque il personaggio di Dante prova al di là ovviamente dell'opinione del giudizio dell'autore dell'autore qui tutto questo scompare il personaggio di Dante è feroce implacabile con questo con questo personaggio con questo personaggio l'altro aspetto lo dicevo al quale bisognerà fare attenzione nel momento in cui si ascolta e si legge il canto sono è il sistema delle similitudini molto ricche molto ricorrenti all'interno del canto in misura davvero caratteristica che sono complementari a questo materiale linguistico aspro e chioccio di cui si dice all'inizio di questa nuova materia di questa nuova sostanza linguistica che sola può tendere alla rappresentazione della natura di questa di questi di questi peccatori ebbene molte di queste molto di queste similitudini e più in generale tutto l'insieme del materiale linguistico insiste sull'animalizzazione dei dei personaggi ci sono molte immagini animali dannati sono continuamente ravvicinati a degli animali perché sono bestiali hanno perduto la loro nananità e ci sono quindi i becchi la cicogna la rana le pecore le zebe il naso color di carne cagnazzi e tutto questo è ovviamente percepito e utilizzato da Dante come un aspetto fortemente fortemente negativo l'ultimo elemento di grande importanza nella lettura di questo canto lo dicevo lo dicevo all'inizio ma è importante richiudere su questo prima di passare alla lettura vera e propria è la dimensione politica qui non ci sono solo personaggi che hanno tradito la schiatta non solo personaggi che hanno tradito la loro parte ma ci sono dei traditori su un piano politico sono i traditori delle loro parti e l'insistenza di Dante nel descrivere la pena e il tradimento che si perpetua nell'inferno da parte di questi peccatori è forse la condanna più forte che ci sia all'interno dell'inferno del gioco delle parti della politica municipale Dante giunge a condannare anche dei personaggi come Gianni dei Soldanieri che è uno dei minori presenti in questo canto che aveva favorito in modo decisivo per esempio l'affermazione del popolo quel popolo al quale Dante è stato sicuramente quella politica di popolo alla quale Dante è stato sicuramente molto vicino negli anni dell'impegno nelle istituzioni fiorentine ebbene qui all'altezza del canto 33 dell'inferno del canto 32 scusate continua vive 33 all'interno del canto 32 dell'inferno tutta questa dimensione della politica di parte della politica municipale è stata superata ed è ormai fortissimamente condannata nel punto più basso nel fondo dell'inferno passerei quindi alla lettura se avessi le rime aspre e chiocce come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte l'altre rocce io premerei di mio concetto il succo più pienamente ma per chi io non labbo non senza tema a dicermi conduco che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver profondo a tutto l'universo né da lingua che chiami mamma o babbo ma quelle donne aiutino il mio verso che aiutavo Anfione a chiudertebe sì che dal fatto il dir non sia diverso o soprattutto e malcreata plebe che stai nel loco onde parlare è duro mai foste state qui pecore o zebe come noi fummo giù nel pozzo scuro sotto i piedi del gigante assai più bassi e io mirava ancora all'alto muro diceve Udini guarda come passi vassi che tu non calchi con le piante le teste dei fratei miseri lassi perché io mi volsi e vidimi davante e sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante non fece al corso suo si grosso velo di verno la danoia in osterlicchi nettana illa sotto il freddo cielo comeva quivi che se tambernicchi vi fosse succaduto o pietra pana non avria pur da lorlo fatto cricchi e come a gracidarsi sta la rana col muso fuori dell'acqua quando sogna di spigolar sovente la villana livide in sin laddove appar vergogna evan l'ombre dolenti nella ghiaccia mettendo i denti in nota di cicogna ognuna in giù tenea volta la faccia da bocca il freddo e dagli occhi il cor tristo tra lor testimonianza si procaccia quando io mebbi dintorno alquanto visto volsimi ai piedi e vidi due si stretti che il pel del capo aviano insieme misto ditemi voi che si stregnete i petti dissi io chi siete e quei piegavo i colli e poi che berli visi a me eretti gli occhi lor che eran pria pur dentro molli gocciar su per le labbra e il gelo strinse le lacrime tra essi e riserrolli con legno legno spranga mai non cinse forte così un dei come due becchi cozzavo insieme tanta ira li vinse e un che aveva perduti amboli orecchi per la freddura pur col viso in giù disse perché cotanto in noi ti specchi se vuoi sapere chi son cotesti due la valle onde Bisenzo si dichina del padre lo Alberto e di lor fue d'un corpo usciro e tutta la caina potrai cercare e non troverai ombra degna più d'essere fitta in gelatina non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra con esso un colpo per la mandartù non focaccia non questi che mi ingombra col capo sì che io non veggio oltre più e fu nomato sassol mascheoni se tosco sei ben sai o mai chi fu e perché non mi metti in più sermoni sappi chi fu il camicion dei pazzi e aspetto carlin che mi scagioni poscia vi dio mille visi cagnazzi fatti per freddo onde mi viene riprezzo e verrà sempre dei gelati guazzi e mentre candavamo in verlo mezzo mezzo al quale ogni gravezza si rauna e io tremava nell'eterno rezzo se voler fu o destino o fortuna non so ma passeggiando tra le teste forte percossi il pie nel viso ad una piangendo mi sgridò perché mi peste se tu non vieni a crescere la vendetta di montaperti perché mi moleste e io maestro mio or qui mi aspetta sicch'io esca d'un dubbio per costui poi mi farai quantunque vorrai fretta lo duca stette e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora qual sei tu che così rampogni altrui or tu chi sei che vai per l'antenora percotendo rispose altrui le gote sicché se fossi vivo troppo fora vivo sono sono e caro esserti puote fu mia risposta se dimandi fama ch'io metta il nome tuo tra l'altre note ed è lì a me del contrario o io o brama levati quingi ci e non mi dar più lagna che il mal sai lusingar per questa lama allora lo presi per la cuticagna e dissi e converrà che tu ti nomi o che capelli qui su non ti rimagna ondelli a me perché tu mi dischiomi né ti di occhi io sia né mostrolti se mille fiate in sul capo mi tomi io vea già i capelli mano avvolti e tratti gliene avei più di una ciocca latrando lui con gli occhi in giù raccolti quando un altro gridò che hai tu bocca non ti basta sonar con le mascelle se tu non latri qual diavolo ti tocca o mai dissi io non vo che più favelle malvagio traditor che la tua onta io porterò di te vere novelle va via rispose e ciò che tu vuoi conta ma non tacera se tu di qua entro eschi di quel che be or così la lingua pronta e il piange qui l'argento dei franceschi io vidi potrai dire quel da duera là dove i peccatori stanno freschi se fossi domandato altri chi vera tu hai dal lato quel di beccheria di cui segò fiorenza la gorgera gianni dei soldanier credo che sia più là con ganellone e tebaldello caprì faenza quando si dormia noi eravamo partiti già da ello più vidi due ghiacciati in una buca sì che l'un capo all'altro era cappello e come il pan per fame si manduca così il sovran li denti all'altro pose laove il cervell s'aggiugne con la nuca non altrimenti tideo si rose le tempie a menalippo per disdegno che quei faceva il teschio e altre cose o tu che mostri per sì bestiali segno odio sovracolivui che tu ti mangi dimmi il perché dissi io per tal convegno che se tu ha ragion di lui ti piangi sappiendo chi voi siete e la sua pecca nel mondo suso ancora io te ne cangi se quella con chi io parlo non si secca